di esserti inserita insieme a Riccardo all'interno di questo progetto, non vi rupo spazio, vi lascio partire, ci sentiamo, me o Michele, al termine diciamo come per gli altri speaker a 45 o a 50 a secondo delle domande che ci sono vi interrompiamo o comunque sia dialoghiamo con voi per farvi qualche questione e domanda che sono saltate fuori col pubblico. Pronti via a vostra, a vostro, tutta la piattaforma a vostra disposizione. Ciao. Grazie, grazie anche da parte nostra per questa opportunità che troviamo bellissima a partire dal nome Rinascia Digitale noi cambiamo un po' argomento e parliamo di scrittura online il nostro webinar l'abbiamo chiamato scrivere male sul web rischi per lettori e editori e pensiamo anche che sia molto attuale alla luce di quello che sta succedendo anche in questo periodo di cosa parleremo? Chi scrive per ignorando la professionalità, perdone o per colpa, rischia di replicare un modello di giornalismo che può solo portare danni nel tempo ci siamo chiesti ma chi e in che modo? Cosa è che effettivamente porta danni? E cosa deve fare un giornalista? E deve fare anche un blogger che voglia scrivere per informare per scrivere bene su internet? Non ti dimenticare non ti dimenticare i blogger Cristina L'ho appena detto l'ho appena detto no sia mai tant'è che noi due siamo appunto una giornalista e un blogger vabbè io sono Cristina Maccarone come ha detto Stefano sono giornalista freelance faccio anche la SEO copywriter e mi trovate su Twitter se volete anche twittare nel frattempo poi così vedo come Cristina Macca è il mio collega e amico e collega anche in questa situazione perché insieme abbiamo scritto un libro di cui tra poco vi parleremo è Riccardo Esposito che è un blogger molto valido da cui io imparo ogni giorno web writer è anche creatore di My Social Web e su Twitter è Riccardo E non so se ho detto tutto Riccardo la parola blogger l'ho detto più che altro compagno di avventure ormai perché è anche vero che noi ci conosciamo da un bel po' di tempo che abbiamo lavorato insieme su diversi progetti e che appunto ci siamo imbarcati in questa epica idea di dover scrivere un libro insieme tra l'altro un libro dedicato appunto a scrittura online per blogger e per giornalisti ecco che tra l'altro è un libro a double fast cioè con due copertine ok quindi è un'idea un po' particolare ma comunque lasciamo perdere il libro io penso che sia sì vabbè la mia presentazione è più che adeguata diciamo a me non piacciono tanto però so proprio di presentazioni lunghissime ecco più che altro mi vorrei concentrare sui contenuti e come d'accordo io penso che sia giusto che io lascia a te la parola per iniziare con il primo argomento perché noi giusto per dare un'idea abbiamo deciso di dividere questo webinar in quattro grandi punti ovviamente per come dire affrontare il tema della scrittura online ci vorrebbe dal mio punto di vista almeno tanto tempo però noi abbiamo deciso di sintetizzare in quattro grandi punti ok ok però vabbè il titolo del libro li compassano visto che la slide c'è scrivere per informare è dedito da Kosky ok mi ricollego a quello che hai detto tu effettivamente per parlare di scrittura online penso che ci vorrebbero quattro webinar forse neanche potrebbero bastare e abbiamo deciso di dedicare di suddividere tutto il nostro webinar in quattro capitoli utilizzando poche slide ma che per noi sono piuttosto significative e la prima è come citare le fonti tra l'altro è molto molto attuale perché purtroppo in questo periodo si citano spesso si parla spesso di numeri si parla spesso di come si sta evolvendo questo virus che ci riguarda molto ma spesso non si cita la fonte da cui sono presi dati la fonte da cui sono prese determinate informazioni si interpretano le cose penso che sarei d'accordo con me Riccardo senza magari guardare la fonte originale anche alla luce del decreto per esempio si fa un'interpretazione senza dire da dove lo si è presa invece la fonte in un articolo sia che lo scrive un blogger che lo scrive un giornalista è basilare il lettore deve poter ricavare capire da dove noi abbiamo preso la notizia e non pensare che sia una mera interpretazione noi ovviamente la stiamo interpretando alla luce della nostra lettura però il lettore deve poter ricostruire quello che è mutuando un'espressione da Marco Tedeschini-Lalli che è un giornalista validissimo abbiamo chiamato l'albero delle informazioni ossia bisogna vedere il frutto che è appunto l'articolo ma anche la radice cioè da dove è nato tutto tra l'altro il testo unico per i doveri del giornalista lo dice lo dice all'articolo 9 e dice che la fonte va citata a meno che infatti qua c'è il secondo punto non abbia chiesto di non essere rivelata perché il rivelarle potrebbe compromettere appunto la sua vita potrebbe compromettere la sua carriera è una fonte che non è ancora ufficiosa e ci sta dando una soffiata in quel caso va da sé che non la riveliamo ma lo diciamo al lettore che non possiamo dirlo perché noi dobbiamo essere sempre chiari diversamente proprio lo sottolineo qualsiasi fonte va rivelata e soprattutto il web come tra poco direi più chiudo questa parte con i link permette più di quanto si può fare si possa fare con la carta stampata di capire dove trovare la fonte di andare all'origine e questo è fondamentale se noi stiamo citando un'agenzia se stiamo citando un decreto se stiamo citando un documento se stiamo citando una nota di un'azienda se stiamo citando un comunicato stampa sarebbe doveroso mettere come si legge nel comunicato stampa o come dice l'agenzia tal detali in un comunicato stampa è doveroso se stiamo riportando qualcosa che si dice sui social network ok chi è che l'ha detto peraltro a questa cosa ci tengo tantissimo e penso che il giornalismo e il blog in puro si possano aiutare perché non so voi ma a me stanno arrivando un sacco di messaggi di whatsapp in cui mi danno in cui mi si dà informazioni e io poi chiedo ma chi te l'ha detto sono tutti messaggi inoltrati che per fortuna whatsapp lo dice che è inoltrato ma non si sa mai da chi è partito e se non c'è chi ha detto cosa cioè quindi il soggetto quell'informazione non ha ragione di esistere e la stessa cosa vale nel giornalismo lo stiamo dimenticando in questo periodo lo stiamo dimenticando a volte gli stessi blogger lo dimenticano ecco non si può fare informazione interpretando quello che altri hanno interpretato devo sempre andare alla fonte e lo devo fare per il mio lettore Riccardo non so che ne pensi tu dando anche l'approccio web user experience sai a me mi ha meravigliato il fatto che tu abbia detto a volte anche i blogger se lo dimenticano perché io invece una parte del mio studio per scrivere il libro ma anche nella mia esperienza quotidiana noto che invece molti giornalisti proprio dimenticano di inserire nelle pagine web i link alla fonte ma diciamo questo è come dire un approccio un po' bucorico quello che ho in questo momento perché in realtà forse non è che lo dimenticano forse non lo mettono di proposito perché chi è più scout chi ha più conoscenze in merito rispetto a come vanno le cose sul web sa bene che i link hanno un valore nel senso che quando io metto un link a un sito web sto dando adesso lo semplifico molto un voto positivo agli occhi di Google nel senso che io a Google sto dicendo guarda io di questo sito web mi fido ok e quindi ci metto un link questo link ovviamente avrà un valore in termini di posizionamento SEO di conseguenza spesso c'è questo approccio un po' incattivito per cui io non voglio dare link non voglio dare un valore aggiunto ad altri siti web e soprattutto non voglio che io perda quella visita perché ovviamente un link equivale a un come dire una porta di uscita io posso far uscire i lettori e portarli via dalla pagina web ovviamente per un quotidiano online che lavora con che guadagna con l'advertising con la pubblicità questo vuol dire che se gli do la possibilità di uscire sto perdendo potenziali incassi nel senso che sto perdendo dei click sui banner sulle pubblicità e via dicendo e questo è un punto di vista ma è chiaro che comunque per dare un'informazione di qualità per dare un contenuto di qualità i famosi contenuti di qualità io devo permettere alle persone di capire qual è la fonte che io ho utilizzato per creare il mio contenuto in primo luogo perché è giusto nei confronti di chi ti ha permesso di creare il contenuto nel senso che io devo anche gratificare chi mi ha dato lo spunto altrimenti io non avrei scritto quel contenuto ecco ma devo anche un po' per rispetto devo anche sì devo anche permettere a chi legge di arrivare a una a una conclusione cioè di capire come dire chi ha contribuito alla creazione di questo di questo articolo e tutto questo a volte non viene fatto di proposito e quando viene fatto a volte viene fatto male nel senso che quando si cita una fonte sul web bisogna scegliere con cura a parte la pagina di atterraggio nel senso che io non devo linkare la home page di un sito ma la pagina specifica in questo modo io semplifico l'attività di chi vuole verificare ma devo anche utilizzare un anchor text adeguato per far capire esattamente sia google che scansiona la pagina sia il lettore che fa un lavoro simile nel senso scansiona il contenuto e alla ricerca di elementi per capire se è interessante o meno quel contenuto devo permettere attraverso l'anchor text di capire qual è la pagina di atterraggio faccio un esempio quando metto un link non utilizzo come anchor text fonte buy clicca vedi e altre cose del genere ma utilizzo una parola che mi permette di capire ad esempio su quale sito web io sto atterrando ad esempio fonte la repubblica oppure fonte www.larepubblica.it in questo modo è ancora più chiaro qual è la fonte che io sto andando a rincare quindi da un punto di vista strettamente tecnico dal mio punto di vista io dico che la fonte va sempre rincata va rincata la pagina specifica in cui si trova la notizia o comunque quello che è elemento utile e soprattutto va scelto quello che è un come dire un anchor text utile per capire di che cosa stiamo parlando o quantomeno su quale pagina stiamo atterrando è in una situazione di grande non dico confusione ma aveva detto stesso tuo discorso coronavirus c'è grande come dire fermento dell'informazione a volte ci sono appunto tante notizie non verificate oppure tanta attenzione sulle fonti queste piccole attenzioni sono importanti così come sono importanti anche altri argomenti tipo quelli che abbiamo citato che vogliamo citare nel nostro webinar ad esempio il prossimo tema è appunto uno dei più come dire sentiti dalla da chi comunica nel senso che il titolo è l'elemento fondamentale per attirare l'attenzione di chi legge nel senso che questi titoli oggi discorso coronavirus titoli roboanti titoli pensati per catturare l'attenzione per fare clickbaiting a volte e tutto questo diventa tutto questo a scapito della buona informazione cioè chi comunica chi scrive articoli per quotidiani online per blog per quello che è l'informazione digitale deve fare tantissima attenzione a questa stringa di contenuto perché nella maggior parte dei casi è l'elemento principale se non l'unico che consente al lettore di capire se cliccare o meno e se regge o meno un contenuto ora sempre da un punto di vista tecnico a me quello che interessa poi diciamo vorrei lasciare a te la parte più giornalistica d'altro tanto proprio il tuo settore ma da un punto di vista della scrittura online quello che mi preme sottolineare che spesso c'è poca attenzione a quello che è la cura di aspetti come la differenza fra tag title e h1 spesso a volte i giornalisti non ma anche i blog ovviamente io sto facendo un discorso un po generico perché tu hai fatto il discorso pro giornalisti anti blog adesso io voglio restituire il piacere no sto scherzando però che cosa succede che si scrive un titolo nel back end diciamo nel cms che nella maggior parte dei casi e web e signore il fatto che quel titolo è sia h1 cioè il titolo che le persone vedono quando arrivano su una pagina web quello che io posso vedere quando arrivo su un articolo della repubblica o qualunque altro quotidiano blog e automaticamente questo h1 diventa tag title cioè il titolo che appare nella serp nella pagina dei risultati di google nel momento in cui io cerco qualcosa ora questi due elementi hanno come dire sono sempre dei titoli ma hanno delle funzioni leggermente diverse perché il tag title è l'elemento che comunica a google quello che è il topic più importante di una pagina web quindi da un punto di vista strettamente serio dovrebbe essere particolarmente curato ovviamente non parliamo più solo del discorso mettere la keyword perché sappiamo e comunque l'evoluzione dei motori di ricerca ci porta a come dire sganciarci un po da questa da questi paraocchi per cui basta che metto la keyword e sto apposto nel tag title però è chiaro che deve esserci che deve essere indicato quello che il topic e soprattutto dobbiamo rimanere intorno a quelli che sono 60 65 battute altrimenti nella serpita che tardo viene tagliato mentre invece nell'h1 che possa essere più creativo mantengo sempre attenzione focus sul topic però come dire posso dare più spazio a quello che un approccio a quello che è un titolo caldo ecco è a tanto prossimo io però vorrei lasciarti la parola proprio perché io so bene che discorso dei titoli nel giornalismo può essere molto argomento con una virus lo usiamo come esempio però diciamo un po in generale voi giornalisti avete fatto scuola anche a noi blog noi abbiamo imparato da voi cosa significa creare un titolo ad effetto però adesso ce lo spieghi anche tu diciamo che impariamo a vicenda e questo il nostro essere insieme è la dimostrazione di cui io sono molto molto fiera e sì grazie per questa cosa sì pensiamo di insegnare intanto sono d'accordo con te è interessante questa cosa che dici dal punto di vista seo perché penso che sarai d'accordo anche tu con me i giornali se lo dimenticano sempre e curano poco questa cosa anche se quelle notizie uno le trova effettivamente anche in serp sono anche d'accordo che in questo periodo ma non solo si facciano anche molti titoli clickbaiting l'ultimo era quello di repubblica che faceva vedere come un'inchiesta come uno scoop fighissimo il fatto che un'azienda di brescia avesse venduto dei tamponi negli stati uniti e poi se farsi è visto come questo titolo era stato un po un po forzato creando anche un po di dibattito e anche il post stesso aveva analizzato questa cosa quindi il titolo è sicuramente come abbiamo detto io e te in queste slide è un biglietto da visita deve avere degli elementi fondamentali deve tenere conto delle tecniche giornalistiche di cui ora parlo e come tu hai accennato strezzare l'occhio alla seo come dici tu attrarre incuriosire il lettore e soprattutto far capire il taglio che si sta dando al pezzo perché appunto non tutti gli articoli sono uguali possono essere articoli informativi possono essere articoli di approfondimento può essere la news può essere un articolo di cronaca nera insomma il titolo fa capire anche il taglio cioè il lato da cui noi stiamo cercando il lato l'aspetto che noi stiamo cercando di far vedere al nostro lettore perché ovviamente un articolo io non posso parlare di tutto ma sto dando un taglio che poi un termine che è mutuato dalla carta che dipendeva proprio da dove veniva posizionato l'articolo e riguardo i titoli caldi e freddi sono sono d'accordo il titolo freddo è un titolo non può si può intuire che è enunciativo anche c'è un titolo che annuncia un fatto che è successo per fare un esempio per fare capire a chi ci sta seguendo un titolo enunciativo e di conseguenza freddo in forma di quello che è successo come per esempio incendio distrugge lo stadio a milano ovviamente facciamo tutti gli scongiori possibili praticamente il nostro lettore capisce che è un articolo di cronaca e dentro ci troverà la cronaca dell'incendio anche un titolo non particolarmente bello secondo me però insomma è un titolo di cronaca che si che si capisce anche un titolo anche un po ellittico in cui sono omesse delle delle parti in italiano perché in italiano dovremmo dire un incendio ha distrutto oppure un incendio distruggere lo stadio almeno mettere un altro elemento un titolo caldo come si può capire dalla dall'aggettivo è un titolo che emoziona che prende alla pancia che diverte oppure impressiona e sono i titoli un po che dicevi tu quelli che fanno un po scalpore in questo periodo leggere un titolo che che ti prende alla pancia che ti fa venire un colpo va da sé che io l'articolo me lo leggerò per forza perché mi hai preso al mi hai preso hai colto un mio stato d'animo magari mi hai generato un po di panico devo vedere cosa mi stai dicendo oppure questo non titolo che usa le metafora un titolo caldo per esempio che ne so improvviso è il politico vive di l'emosina di voti ovviamente l'emosina è figurativa non c'è realmente qualcuno che si un politico che va per strada e riceve voti fisicamente a parte che va a cercarli magari porta per porta attenzione che questo è un terreno scivoloso è questo io ho un esempio possa fatto io un esempio che mi sta particolarmente a cuore e quando ci fu il è che poi è un esempio che uso spesso nei corsi anche nel libro ovviamente quando ci fu il terremoto in espinia nel 1980 e io ancora non ero nato ma io che cosa è successo che il mattino pubblico questo articolo con una board of food cioè la parte principale no la parte più in vista del giornale a bordo forte un termine mutuato dal giornalismo ma che utilizziamo soprattutto noi sul web ok però diciamo nella pasta principale il titolo principale del quotidiano era fate presto e tutto intorno poi c'erano occhieri catenacci sottotitoli fotonotizia e tutto faceva capire che poi alla fine si stava parlando del terremoto però la cosa che mi ha colpito tantissimo è che quel fate presto era un titolo dove si lasciava capire questo no la situazione e è così grave cioè la situazione è così drammatica che saltano anche le regole del giornalismo perché se la regola del titolo giornalistico ci dice devi informare devi far capire al lettore qual è il argomento principale poi declinato con titolo caldo titolo fritto diciamo gli dai una come dire una forma più o meno coinvolgente diciamo così però quel titolo invece dice vada non possiamo non c'è tempo per pensare a niente saltano tutte le regole della scrittura del giornalismo la cosa più importante è che io devo io giornalista utilizzo questo spazio per fare una preghiera diciamo per dare un'incitazione per chiedere di fare presto perché la situazione è gravissima e secondo me dal mio punto di vista questo è un titolo caldo diciamo quasi assurdo definirlo semplicemente caldo questo è un dal mio punto di vista un capo lavoro di comunicazione ma che da un punto di vista strettamente tecnico per la seo per i contenuti web sarebbe un insuccesso per quale motivo il contenuto oggi sul web viene visto viene trovato anche grazie al tag title per questo c'è la differenza tra tag title e h1 perché io col tag title potrei utilizzare una formula del tipo terremoto in ispinia due punti fate presto quindi faccio capire google qual è il topic da affrontare poi nell'h1 posso utilizzare una formula una formula diversa dove è sempre importante l'h1 ma meno del tag title da un punto di vista seo e di conseguenza posso giocarmela tra l'altro titolo così appunto decontestualizzato però non direbbe niente nonostante sia bellissimo c'è preso fuori dall'articolo non da nessuna informazione non dice chi cosa eccetera a questo per questo per questo scusami ultima cosa per questo nella serp sarebbe difficile farlo funzionare mentre invece una pagina web dove ci sono più elementi cioè ci può essere l'immagine ci può essere diciamo il contesto della pagina e quindi può funzionare sì anche se io lo completerei anche con fate presto dei punti l'appello non lo so del prefetto l'appello di qualcuno almeno per far capire che lo contestualizza sì non so almeno adesso sul web sì ma a me viene anche in mente un altro titolo mentre parlavi che mi era piaciuto un sacco tanto per far capire l'astuzia dei giornalisti che sul web si può fare anche un po meno che che era un titolo che scrive sul mio collega mi aveva sempre colpito qui conviene rubare praticamente era parlava di un forto che era stato in un supermercato che si aveva qui conviene lui rischiò proprio la denuncia per quel titolo però effettivamente era un bellissimo gioco di parole per dire che che appunto nei giornalisti giochiamo molto su questo diciamo che alla fine io e te giornalista blogger siamo d'accordo su web conviene sia essere creativi ed essere poi esplicativi nel tag title giusto sì questo sicuramente regola fondamentale suggerita anche da dalla guida seo base di google google c'ha una guida di base molto semplice ma importante per chi fa questo lavoro è diciamo uno dei capisardi è proprio quello di scrivere tag title informativi e non troppo lunghi ecco ok e magari con un po di creatività perché tutti quei titoli come fare questo come fare quell'altro a volte hanno un po annoiato no che dici ma guarda qua è un altro territorio minato perché poi come dire gente che ci ha costruito fortune su come fare questo e come fare quello però c'è da dire una cosa c'è da dire c'è da dire una cosa che tutto poi dipende da dal tuo target ok c'è nel senso che se tu vuoi hai un'idea vuoi fare un come dire un blog basato sui tutorial e hai come base un target che non se non si interessa tanto a diciamo così ai ai voli di creatività ma vuole una cosa fatta bene semplice che si capisce è tutto quella è la formula poi chiaro sarà noioso da un punto di vista aggetivo ma se quella cosa serve cioè è capito tutto dipende da quello che vuoi fare ok sempre con l'obiettivo del lettore diciamo a questo non capo è un po come quando vai in un ferramenta noi ferramenta sa tutti gli attrezzi montati sulla parete diciamo sulla parete attrezzata tutti ordinati schematici noioso da vedere no però funziona c'è ti serve quella chiave la prendi e te ne vai ok allora passiamo al prossimo argomento che invece è anche una cosa di cui parliamo tanto nel libro che è la differenza tra notizia e comunicato stampa che abbiamo messo come terzo slide perché una volta che abbiamo parlato del titolo ci siamo detti ok però immaginiamoci anche dal punto di vista di chi vuole comunicare in questo caso di un'azienda che si affida a un studio stampa a chi si occupa di media relation per arrivare ai giornalisti peraltro il comunicato stampa è spesso una fonte il problema è che spesso e poi tu mi dirai la tua parte sempre dal punto di vista della user experience che è molto interessante ogni tempo di contenuto il fatto è che i comunicati stampa in questo momento spesso non vengono letti dai giornalisti e chi fa media relation magari si lamenta perché non ha non ha la giusta attenzione però è importante dire che la notizia e il comunicato stampa sono diversi innanzitutto perché cambia il destinatario la notizia come abbiamo scritto qui nelle slide è per il lettore il comunicato è per i giornalisti che a loro volta parleranno al lettore di conseguenza però spesso quello che mi capita penso anche a te perché ormai i comunicati stampa li ricevono anche i blogger e che ti arriva un comunicato che non comunica niente non so scusa del gioco di parole nel senso che la notizia realisticamente non c'è succede questo capita perché probabilmente chi si occupa di ufficio stampa è un po' costretto delle aziende quindi qua se c'è qualche azienda in ascolto mi prema anche dirla a loro meglio uscire con un comunicato quando effettivamente c'è una notizia una notizia appunto è una novità un qualcosa che possa attrarre il giornalista che a sua volta la comunica appunto ai al suo lettore perché se non c'è una notizia è normale che il giornalista non non lo consideri eccezione fatta per quando magari il comunicato stampa viene da uno sponsor ma lì non stiamo più parlando di giornalismo e non sarebbe corretto quindi il comunicato dovete contenere sempre la notizia questo è fondamentale appunto perché il giornalista ne parli e tra l'altro è anche importante quando si fa un comunicato stampa questa è una cosa che è emersa anche noi tanti webinar che io riccardo abbiamo fatto e che spesso il comunicato è scritto così bene non so se ti ricordi riccardo che ci hanno fatto notare questa cosa che il giornalista non ha quasi niente da fare insomma diviene normale anche un po per la fretta un po perché siamo la categoria più pigra del mondo e più viziata del mondo e ci metto pure in mezzo questa è una cosa che c'è questa è una cosa che ti stai dicendo da sola stai dicendo tu non mi senti però giusto no 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 c'è una cosa che stai dicendo tu non mi prendo responsabilità vai no vabbè non lo dico perché posso farlo c'è un tesserino quindi lo posso fare no dicevo che spesso appunto siamo così pigli facciamo copia incolla e questo ora vedremo dal punto di vista google ci dirà quanto sia controproducente però anche dal punto di vista del contenuto non va bene perché succederà che tutti i giornali hanno lo stesso tipo di notizia e soprattutto non avremmo fatto il lavoro più importante del mondo dare il privilegio al lettore di leggere un taglio come dicevo prima un'angolatura qualche particolare che il comunicato è uguale per tutti va bene ma il comunicato è una fonte non è una notizia deve contenere una notizia ma non è una notizia una fonte su cui appunto il giornalista deve lavorare per fare il suo articolo quindi è fondamentale quando un giornalista lo riceve ma anche un blogger sempre che scrive per informare non limitarsi a fare un copia incolla non limitarsi a seguirle in maniera che disse qua e fare solamente editing cioè rimescolare quello che c'è che già almeno presuppone un po' meno di pedizia ma approfondire un aspetto anche se il comunicato è perfetto quindi dire ok questa cosa la voglio trattare un altro modo ok caro ufficio stampa mi fai sentire nell'azienda tal dettaglio in modo che ci metto dei vergolettati che sono sempre importanti in modo da dare delle dichiarazioni oppure senti io ho ricevuto questo dato però questa cosa non mi quadra molto oppure vorrei dare un altro aspetto mi dai qualche cosa in più cioè alzare la cornetta e dire che poi l'ufficio stampa è lì per quello se riceve telefonate del genere è solamente felice anche se ne fa lavoro in più però viene fa dare un altro un altro aspetto ecco approfondire anche un comunicato perfetto fa sì che noi diamo un'altra angolatura al nostro articolo e diamo un ulteriore approfondimento e peraltro a livello di concorrenza quindi perché ovviamente tutti i giornali online sono in concorrenza sia dal punto di vista dei contenuti che incorrono per la SERP cercheremo un po' di sbaragliarlo perché avremmo dato qualcosa di diverso e come noi avremmo trattato la notizia anche se la fonte è la stessa non sarà mai come hanno trattato gli altri invece dal punto di vista proprio di Google e tutto quello di cui tu sei esperto ci sono alcuni di comune o no? sì no il discorso è molto semplice anche se è difficile da far capire a volte lo dico per esperienza perché diversi anni fa mi sono andato a fare formazione a un gruppo di giornalisti dell'ordine insomma i crediti queste cose qui e quando ho annunciato questa cosa cioè che non bisogna prendere il comunicato stampa copiarlo e incollare il testo su un editor per poi pubblicarlo ho avuto un sacco di critiche eh diciamo c'è stata proprio una una ribellione in aurea no? non ha come ma quindi poi dobbiamo scrivere l'articolo beh sai il comunicato stampa è un contenuto che serve a questo a come dire eh far sentire un'unica voce da da un organo da un politico non so di chi in modo tale che poi i giornalisti possano scrivere un articolo insomma ecco eh perché io poi dicevo questo per un motivo molto semplice perché partiamo da un concetto cioè che google tende a penalizzare per attenzione non non è una vera penalizzazione come sono le penalizzazioni algoritmi che o manuali ma comunque tende a preferire i contenuti unici ok che cosa significa significa che se google si trova di fronte a due contenuti uguali cioè due test due pagine web con del testo uguale eh farà una scelta ovviamente io non mi sto riferendo a stringhe di test uguali perché può capitare che sai dichiarazioni eh citazioni queste cose qua siano uguali tra due pagine tre pagine ecco penso magari anche una bibliografia no nel senso che ci sono ci possono essere delle stringhe uguali ma se io pubblico 600 parole eh se prendo 600 parole pubblico uguale queste 600 parole sono pubblicate su altre pagine eh come dire Google si trova di fronte a una scelta cioè io devo come dire proporre alle persone contenuti di qualità eh questo è l'obiettivo fondamentale di Google ora se tutte le pagine sono uguali se tutti i testi sono uguali eh cosa pubblico ci sarà qualcuno che ha copiato allora lui che cosa fa sceglie quelle che sono eh quelli che sono i domini più eh rilevanti quelli che sono i domini con una maggiore autorevolezza questo che cosa significa che se qualcuno manda un comunicato stampa a 100 quotidiani tra cui anche Repubblica Corriere della Sera queste cose qua e eh questo comunicato stampa viene pubblicato da tutti i quotidiani allo stesso modo verranno mostrati nella SERP solo come dire i siti più autorevoli quelli meno autorevoli verranno come dire scalzati e saranno come dire pagine dimenticate quindi eh l'elemento fondamentale che io suggerisco sempre quando si lavora con i comunicati stampa e non pubblicateli eh uguali eh cioè non pubblicateli eh così come vi arrivano ma elaborateli ma fate in modo che comunque ci sia un articolo nuovo grazie al comunicato stampa proprio perché in questo modo oltre a essere corretti nei confronti di chi legge dare un taglio tutto quello che hai detto tu che è sacrosanto eviti anche che comunque ci siano problemi di questo tipo cioè che Google possa in qualche modo eh scalzare quello che tu hai pubblicato solo perché c'è solo da virgolette perché è eh copiato è simile a quello di tanti altri siti web questo è il problema fondamentale ecco ehm non so se tu puoi aggiungere qualcosa su questo punto no direi che anche su questo siamo in pace come diciamo andiamo d'accordo eh siamo da sono d'accordo con quello che dice mentre invece no perché io ve lo stavo guardando anche l'orario perché vorrei rispettare con precisione quanto ci è stato chiesto in modo da non togliere tempo eh ai colleghi e soprattutto per dare spazio alle domande se ci sono ovviamente ehm comunque in ogni caso penso che ce l'abbiamo altri dieci minuti quindici minuti giusto? eh sì allora eh l'ultimo punto che vogliamo affrontare è quello dell'attacco cioè eh il primo paragrafo ecco eh i primi paragrafi di un articolo eh come dire dal punto di vista giornalistico come sempre poi lascerò a te la parola eh perché sappiamo tutti che c'è come dire eh una scuola giornalistica rispetto a come iniziare un articolo le famose cinque W che sono le domande ehm ai quali il giornalista risponde per dare subito la risposta per dare creare un read efficace un read inteso come un attacco ehm però da un punto di vista della scrittura online c'è questo eh late motive c'è questo che si si stende no? Cioè da quando iniziamo a utilizzare WordPress con i vari plugin per l'ottimizzazione SEO c'è questa regoletta che viene suggerita dagli host il famoso plugin per l'ottimizzazione SEO di mettere la parola chiave nel primo paragrafo no? Come se fosse una regola per cui metto la parola chiave che è più importante nel primo paragrafo e so a posto e mi posiziono. Che è una sciocchezza o meglio eh è una semplificazione che funziona solo se tu capisci che cosa c'è alla base cioè più volte anche eh da alcuni esponenti da alcuni portavoci di Google è stato detto eh sì ehm fate capire subito nei primi paragrafi perché continuare a leggere l'articolo cioè date la risposta immediatamente alla domanda che si pongono gli utenti quanto quando fanno una ricerca. Diciamo che il concetto è molto articolato è come dire eh rientra in quello che è eh il tema del search intent cioè delle intenzioni di ricerca. Quando una persona fa una ricerca su Google eh chi scrive dovrebbe sempre chiedersi ok questa persona che cioè io questo articolo lo sto scrivendo per rispondere a quale domanda? Quale esigenza? Io intendo domanda non nel senso proprio domanda col punto interrogativo ma è una necessità cioè se qualcuno cerca migliori ristoranti a Roma eh che cosa che cosa cerca quella persona? Una lista probabilmente di ristoranti da scegliere in base a prezzo, recensioni e cose varie quindi è quello il contenuto vincente una lista di ristoranti non un papiello cioè eh duemila parole eh duemila parole organizzate in blocchi di testo poco leggibili tipo enciclopedia in cui si parla dei migliori ristoranti di Roma dalla dall'unificazione d'Italia oggi e questo è il concetto. Eh così come eh è importante quando scriviamo i nostri articoli non fermarci a quell'idea che metto la parola chiave e sto a posto io posso anche non mettere quella specifica parola chiave ma sinonimi ma varianti l'importante è eh quello di creare un attacco eh in primo luogo ben formattato eh breve non come dire non pesante nella lettura ma soprattutto capaci di dare subito il valore di quello che io sto scrivendo quindi eh do subito le informazioni più importanti e poi approfondisco la famosa la famosa eh piramide rovesciata insomma del giornalismo eh funziona anche sul web eh quello che è importante capire è che eh soprattutto che sul web soprattutto dalla lettura mobile cioè il telefonino eh tutto questo viene ancora più amplificato viene amplificato nel senso che la lettura è ancora più distante è ancora più fugace ok quindi io da un punto di vista del web writing ho bisogno di un attacco capace di eh andare subito al dunque e far capire al lettore cosa troverà nell'articolo e quali sono i vantaggi che lui può avere nel momento in cui continua a leggere il mio contenuto questo da un punto di vista eh tecnico giornalisti da come giornalista secondo me tu puoi aggiungere tanto ok ci provo a farlo intanto vabbè sono d'accordo con te che da mobile la cosa si amplifica anche perché spesso quando leggiamo da mobile leggiamo essenzialmente mobilità non non in questo periodo però normalmente facciamo così magari siamo in metropolitana e qualcuno ci dà una comitata oppure dobbiamo scendere alla fermata quei bei tempi quei bei tempi quando prendavamo la metropolitana quei mezzi pubblici che quel piacere di andare su una metropolitana o su un autobus che c'era ormai proprio lontano bellissimo dico al di là di questo insomma se uno ha iniziato con un attacco che non ha coinvolto il lettore va da sé che quel lettore è una situazione in cui si debba muovere è difficile che ritorni quindi sono d'accordissimo con te noi abbiamo messo anche un altro punto qui che poi il primo oltre il 5 w insomma oltre il 5 w di cui hai parlato tu perché spesso si dice l'attacco deve appunto rispondere alle varie domande che non sto qua a dire chi cosa quando eccetera eccetera ma dipende perché questo vale per un articolo di cronaca cronaca nera cronaca bianca cronaca giudiziaria in cui appunto si dà tutta la notizia nel primo nel primo paragrafo ecco si dice tutto rispondendo appunto a chi ha compiuto un'azione cosa dove quando e perché l'ha fatta e poi anche come effettivamente non è una w ma un h e questo è un attacco che ovviamente valido in questo caso è che gli americani un po chiamano summary lead ossia un attacco in cui c'è ci sono gli aspetti salienti e viene chiamato anche nel giornalismo attacco enunciativo tu stai enunciando un fatto e se appunto ti è arrivato alla gomitata in metropolitana che ormai è sintomatica la notizia ce l'hai quindi ti è rimasta però se il nostro articolo è un approfondimento se il nostro articolo è un reportage che ci sono ovviamente anche sul web se il nostro articolo è un intervista per esempio a me un attacco che piace tantissimissimo è quello descrittivo in cui si descrive una situazione si fa immaginare la persona che è davanti dov'è come si sta comportando magari soffermandosi soffermandosi su un particolare con i capelli le mani quello che sta facendo in modo che il lettore si immedesimi un attacco che per esempio vanno molto in mani di ferro mi piace molto e in modo che il lettore entri direttamente nella nella situazione si faccia appunto portare ed è un attacco che viene chiamato descrittivo e soprattutto è utile per far capire che io come giornalista o te come blog ritardo siamo stati sul posto abbiamo intervistato davvero la persona funziona tantissimo anche se sto raccontando un evento anche se stessi raccontando rinascita digitale anche se online potrebbe funzionare magari raccontando un aspetto ecco questo secondo me è molto utile e fa capire che tu hai partecipato appunto a un evento e coinvolgi subito il nostro lettore una descrizione bella lo farà restare in collato anche se gli danno questa famosa comitata sulla metropolitana altro attacco che a me piace molto quello diretto che io uso quando quando mi devo cavare di un piccio insomma quando non so come iniziare o si inizi con le virgolette e fai parlare direttamente una persona che è importante che dice qualcosa di succoso ovviamente qualcosa che sia denso che sia importante che sia anche di per sé una notizia ma anziché dirlo tu lo metti come virgolettata appunto a una persona ed è un attacco diretto e questo anche funziona tantissimissimo soprattutto appunto se la frase scelta è densa di significato anche perché il lettore che vede subito aprire le virgolette o siano virgolette alto caporali capisce che c'è qualcuno che sta parlando e in un certo senso si mette sul chi va là ovvio che non bisogna farlo parlare per quattro righe e poi vedere chi è che parla ma fargli dire una frase chiudere le virgolette dire lo dice tizio e poi magari farlo continuare un altro attacco che mi piace molto poi finisco con questa panoramica sugli attacchi giornalistici e secondo me usano tantissimo anche blogger mi sembra anche tu riccardo visto che ti leggo ora mi smentirai è l'attacco interrogativo ossia quello che inizia con le domande che domande possono essere domande che un po' coinvolgono tutti faccio un esempio sempre per questo periodo siamo sicuri di sapere tutto sul coronavirus punto interrogativo e i numeri che ci stanno dando ovviamente prendetele con le pinze che è un esempio non voglio dire niente i numeri che ci stanno dando sono reali o c'è qualcosa che non sappiamo due punti interrogativi che hanno preso dei dubbi e il lettore dice cavolo ok cosa che devo sapere e continuo a leggere secondo me questi funzionano funzionano molto sul web perché è una scrittura che a mio avviso non so cosa ne pensi tutto coinvolge ed è la perfetta sintesi tra quello che il giornalista può fare e quello che il blogger che è un po più attento del giornalista lo deve ammettere alla seo alla user experience suggerirebbero per il suo lettore questa è la mia conclusione non so se vuoi aggiungere questo aggiungere solo uno degli attacchi che uno di quelli che uso con maggior efficacia cioè che a me piace ecco quello che mette in pratica il modello problem agite solve del copywriting cioè individua un problema agite il problema e proponiti come soluzione ok faccio un esempio vuoi anche questo è un esempio classico che spesso porto avanti vuoi scrivere un articolo dedicato alle migliori estensioni per personalizzare gmail ok sappiamo che gmail già tutto non può avere degli accessori digitali delle estensioni così tu lo trasformi trasformi questa questo programma e lo rendi più efficace io potrei iniziare dicendo che gmail sicuramente uno dei programmi di posta elettronica uno degli delle applicazioni per gestire la posta elettronica più efficaci sul mercato anche se spesso ha dei problemi e qui inizia a cambiare un po individuare il primo punto c'è il problema ad esempio non riesce a trovare la posta che è arrivata ieri possa che ogni volta ritrovi nel cestino e spesso non ti accorgi che ti ha scritto proprio il responsabile o il capo il cliente qui inizia ad agitare il problema perché il cliente che scrive tu non rispondi vuol dire che rischi di perdere il lavoro o comunque la commissione oppure rischi di perdere un pezzo importante del lavoro che stai facendo che stai facendo e quindi sei inefficace sul lavoro rischi grosso rischi addirittura di perdere il cliente perché gmail non funziona bene vuoi risolvere questo problema perfetto legge questo articolo con le dieci estensioni più importanti di gmail che ti permetteranno di essere efficace efficiente e tutto quello che vuoi e questo è un attacco che funziona ok abbiamo fatto un articolo così dal nulla basta fare una lista puntata di estensioni e tutto funziona o basta fare l'attacco giusto che vuol dire essere a metà dell'opera come dicevamo ok sono le 15 e 50 io non so se noi abbiamo domande se ci sia ancora stefano sono io ci sono michele a ciao michele ok ci sono domande per noi ho preso ho preso il posto di stefano sto leggendo adesso le domande pippo chiede per capire meglio il title tag viene tagliato dopo 60 65 caratteri o in altro modo posso rispondere vai pure tu riccardo allora il tag title non viene tagliato dopo 60 65 caratteri perché praticamente google fa un conteggio relativa ai pixel cioè quanti pixel si prendono le lettere all'interno dello snippet cioè del nostro spazio quindi per esempio se io faccio un titolo tutte o avrò dieci caratteri ok 15 caratteri se faccio un titolo console i ce ne saranno 50 di caratteri e lo spazio che conta ok quindi di solito si dice 60 65 potrebbero essere di più potrebbero essere di meno perfetto quindi conviene sempre un po guardarlo dopo che siano che va in serp giusto riccardo e diciamo che fai una verifica e ti rendi conto antonio chiede fate fate presto è un titolo che ha fatto storia ed è stato utilizzato per l'opera di andy warhol segnala antonio anche penso sì non so perché il titolo è uscito sul mattino per rispetto al terremoto del in erpinia se non sbaglio andy warhol comunque ha fatto una grande produzione di quadri relativi a napoli c'è il vesuvio mi pare non mi ricordo probabilmente sì ecco ricca riccardo dice che sta già controllando i suoi poste per vedere se vanno bene o meno seguendo le vostre indicazioni per cui il che è buono direi anche prendere il libro trovo indicazioni ancora più approfondite francesca chiede chiede dove si trova di preciso il tag title allora nel back end c'è nell'editor di wordpress si trova alla fine della alla fine del diciamo così dell'editor di testo nel codice html il tag title si trova nella sezione head che si trova sopra il la meta description perfetto non vedo altre domande se c'è qualcuno che ne vuole fare questo il momento uno per cristina dai la prova ma ma vuol dire che stiamo stati troppo chiari e non so cosa dirvi di solito c'è un'ondata di domande invece questa volta mi sa che avete già risposto a tutto quello il quale si poteva rispondere in merito a questo argomento per questo vi ringrazio ovviamente per i vostri contributi adesso spero che il prossimo speaker sia già qua presente sì è qua così almeno vi saluto vi ringrazio nuovamente per aver portato i vostri contenuti qua da rinascita digitale e di di averci fatto compagnia per per quest'oretta però va bene ragazzi questione ovviamente ciao a scrivervi e e vi auguro una buona giornata grazie ciao 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 ciao